Speciale di pagina di resistenza dedicato alla presentazione qui a Cosenza in questa location prestigiosa del chiostro di San Domenico dell'ultima fatica letteraria di Claudio Dionisalvi scritta a quattro mani con Francesco Pezzulli L'evaso partita a bocce con la libertà. Allora, professor Dionisalvi, le ragioni di questo testo? Come sai a me piace molto raccontare la realtà passata e presente attraverso una scrittura che sia affine, che sia molto vicina all'oralità, alla narrazione orale Ho avuto la fortuna, il piacere, l'onore di conoscere l'anno scorso, un paio d'anni fa Francesco Pezzulli che gradiva molto il mio modo di scrivere e una volta così scherzando davanti a un caffè mi ha detto ma perché non la racconti la mia storia? Io ho colto subito la palla al balzo, non me la potevo far scappare questa possibilità perché la sua vicenda è una di quelle storie, è uno di quegli episodi non solo di questa città ma a mio avviso della fine del Novecento che meglio di tanti altri episodi raccontano non solo il carcere non solo le istituzioni totali ma anche la volontà di fuga dalla realtà e la volontà di appropriarsi però del proprio corpo, della propria dimensione umana e quindi ho avuto questa fortuna, con lui abbiamo fatto un percorso che è durato qualche mese di interlocuzione, di discorsi, di domande e risposte anche perché la sua è una storia talmente incredibile che io stesso faticavo a ricostruirla per raccontarla e Franco è molto bravo, è una persona di poche parole, con una grande dignità, una grande sincerità e lealtà umana e per cui mi sono divertito molto a raccontare questa storia Allora, tu non sei nuovo, diciamo a ricostruzioni importanti sul piano storiografico, sulla storia della mafia no cosentina Allora, che cosa è diventata oggi la cultura mafiosa? Tu sei una persona impegnata molto più di me su questo terreno quindi sai benissimo quanto sia rischioso affrontare questi temi aggirando l'ostacolo della retorica Abbiamo tutti la difficoltà, quando raccontiamo queste vicende, di tenerci alla larga dall'ammitizzazione il rischio serio è che si possa incorrere nella retorica e soprattutto che nello sviluppo della trama vengano fuori degli eroi che poi eroi non sono e quindi la mia ricerca si è svolta soprattutto su questo profilo della narrazione e della scrittura sul tentativo di restituire questa vicenda in maniera drammatica ma anche divertente perché l'evasione da un'aula bunker è necessariamente qualcosa di goliardico, di ridicolo, diciamola tutta la verità Sul carcere c'è poco da ridere invece, sulla malavita, sulla guerra di mafia che è avvenuta in questa città c'è veramente poco da ridere, c'è molto da piangere, da ricostruire e da riportare al presente Io ho fatto questo sforzo e a giudicare dal riscontro positivo che questo libro ha avuto già a un mese dalla sua nascita forse grazie soprattutto a Franco perché non è facile per una persona come lui che oggi ha costruito una famiglia che è completamente fuori da quel mondo, non è facile raccontarsi e raccontare il proprio tempo e farlo in maniera sincera senza pietismi e senza esaltazione perché noi sappiamo che purtroppo quando parliamo di malavita, quando parliamo di mafia la tentazione, la tendenza è quella di propendere per un estremo o per l'altro cioè di esaltarsi oppure di star lì a commiserarsi invece Franco mi ha raccontato questa storia con grande dignità e quindi mi ha consentito anche di restituirla ad un pubblico più ampio con un linguaggio che spero sia il più accessibile possibile Partita a bocce con la libertà, la Calabria è una terra libera? Assolutamente no, purtroppo no, non solo la Calabria però potrebbe esserlo, ci sono delle intelligenze, ci sono delle forze sociali che tendono alla cooperazione, a costruire dal basso in modo concreto delle alternative a questa realtà in cui siamo immersi, in cui stiamo affogando quindi non è tutto nero, non è tutto negativo il territorio in cui viviamo e operiamo anzi, per fortuna esistono esperienze qua e là, dislocate nel territorio sparse in provincia, in periferia, che ci danno la possibilità di essere orgogliosi delle nostre origini, però purtroppo la Calabria è non solo la Calabria io direi un gran pezzo di Mediterraneo, tutta l'Italia, un gran pezzo anche di Europa centrale gran parte del mondo, oggi non se la passa bene, i venti che ci arrivano le ventate negative di odio, di xenofobia, di depressione sociale e morale certo non sono confortanti, non è casuale che negli ultimi giorni un episodio analogo a quello che vide nel lontano 97 franco protagonista, cioè un'altra evasione di un ragazzo migrante dal carcere di Cosenza, un'evasione che si è conclusa poi nello spazio di poche ore con la cattura dell'evaso, abbia riscosso grande simpatia tra la popolazione, diciamo la verità mi è capitato di incontrare tantissime persone che ti favano per l'evaso la sensazione è che ci sia una volontà di evadere non solo, ripeto, dalle istituzioni totali ma anche dalla realtà in cui stiamo un po' tutti annaspando l'ultima domanda è sulla cultura repressiva noi andiamo verso una società caratterizzata da un controllo totale della nostra quotidianità quanto è necessario oggi, ma non solo nell'approccio al fenomeno mafioso oltrepassare una cultura meramente repressiva e quindi recuperare un linguaggio sull'inclusione sociale come strumento reale di contrasto, di dinamiche non soltanto criminali purtroppo il modello del dispositivo carcerario sta trasmigrando, sta emigrando sta uscendo dalle mura del carcere già dal mio punto di vista questa società non avrebbe alcun bisogno del carcere e il carcere, vorrei che questo fosse chiaro anche a chi magari non ha avuto la possibilità di avvicinarsi a questa realtà il carcere può produrre solo negatività per tutti quanti noi dalle carceri possono uscire solo mostri vorrei che di questo si convincessero un po' tutti ma il rischio peggiore è che quel tipo di dispositivo un dispositivo che è fatto di punizione, di isolamento, di mortificazione di sanzione penalizzante, assolutamente non di rieducazione possa penetrare anche in altre strutture della nostra società che possa allargarsi per esempio alla scuola, agli ospedali, alle cliniche psichiatriche cioè alle strade perché viviamo ogni giorno, aspettiamo un nuovo decreto sicurezza che ci limiti nelle libertà, nella possibilità di agire e di pensare questo sarebbe veramente un dramma, sarebbe una tragedia per tutti quanti noi perché già il carcere in Italia, vale la pena ricordarlo l'anno scorso ha prodotto 67 suicidi quest'anno i dati del ministero ci dicono che ci sono 60.000 detenuti a fronte di una capienza massima di 50.000 detenuti cioè vivere in una condizione di privazione della libertà di per sé è una mortificazione, è una violenza, è una forma dal mio punto di vista di tortura vivere per giunta questa condizione in una situazione di sovraffollamento è veramente penalizzante per cui cosa ci aspettiamo che esca da quel mondo? le persone che terminano la pena, quando escono, perché dovrebbero essere migliorate? se questo avviene è solo in virtù di una maturazione propria e individuale non è certo per l'apporto, per il contributo che dà la società, che dallo Stato ecco perché io sono d'accordo con te dobbiamo riaprire una discussione sulle istituzioni totali e sul rischio che quel modello possa impadronirsi non solo delle vite dei detenuti dei trattenuti, dei prigionieri e dei ristretti ma anche delle vite di tutti quanti quelli che ci illudiamo di essere liberi